Ciao, ecco sono a Trento, dietro a me c'è il Duomo e in questa strada, la principale, ci sono i palazzi dove si ospitarono i grandi personaggi del concilio di Trento, con il grande concilio della Chiesa, il concilio ecumenico di Trento, in cui si missero le linee basi della Chiesa cattolica in contraposizione alla riforma protestante. Diciamo che qui da Trento il cattolicesimo romano si riassesta, si mette in piede in certo senso e punta a una nuova Chiesa in contraposizione ferma e ferrea contro i protestanti. Da questo concilio sono immerse tante cose, tanti cambiamenti e tante posizioni che poi non si tornerebbe più indietro. quindi è un po' suggestivo essere qua, la protestante. Questa è la città di Trento, dove si leggera il concilio di Trento, in contraposizione alla riforma protestante. Salute!